Proseguono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria nel quartiere di Rosciano, più esattamente quella a ridosso del Codma. Un'opera molto voluta dagli stessi residenti e automobilisti che percorrono spesso questo tratto stradale, ormai diventato pericoloso e con incidenti anche gravi. Da inizio settimana gli operai sono al lavoro per l'asfaltatura dell'intera infrastruttura, con modifiche alla viabilità. Oggi sul cantiere, nuovo sopralluogo del sindaco di Fano. Sì, i lavori stanno procedendo molto bene, secondo calendario. Come vedete i lavori sono importanti, purtroppo quando ci sono opere ci sono anche dei disturbi che si creano. Però da oggi alle 18 verrà riaperta la viabilità venendo dal Codma verso Rosciano. Domani verrà invece chiusa la parte venendo da Bellocchi verso il Codma, fino a giovedì pomeriggio. Giovedì pomeriggio verrà riaperta tutta la viabilità e si potrà girare intorno alla nuova rotatoria che ovviamente non è terminata, però la viabilità verrà ripristinata. Proseguiranno i lavori con la piccola rotatoria a fianco, finito il lavoro dell'altra piccola rotatoria, che durerà una settimana circa, a quel punto verranno rinterrotti i lavori in tutto per un paio di giorni, per finire, ultimare in modo definitivo il lavoro e inaugureremo dopo le nuove rotatorie perché sono due. Dunque un'opera importante, una risposta alla città. Sì, questa come sappiamo è una zona ad alta intensità di traffico, è stato teatro purtroppo di tanti sinistri, anche tragici, quindi è veramente una risposta importante, tanto richiesta. Era un impegno che ci eravamo presi e oggi siamo qua a ultimare quest'opera. Devo ringraziare anche la ditta che sta lavorando, che sta lavorando molto bene, mantenendo tutti gli impegni e soprattutto anche le tempistiche.